Signori, benvenuti in una nuova puntata nuova di Resident Evil Remastered Allora raga, nella scorsa puntata abbiamo raggiunto il... Cioè, il... è un parolone Comunque, l'entrata del laboratorio E abbiamo fatto un giochino con le lastre Abbiamo notato che comunque ci sono tante porte in questa zona Cioè, tipo... No, in realtà non direttamente in questa zona Ma nella prossima È tornato il cherosene e soprattutto ho i nastri inchiostratori Che nel mio inventario non ci fanno niente essenzialmente Vabbè Abbiamo notato che ci sono tante porte Quindi tante cose da esplorare ed è una buona cosa Cioè, sicuramente parlando è, secondo me, una buona cosa Questi dischi... Allora, facciamo un'analisi un attimo della cassa A parte armi e cure varie che, ovviamente, lasceremo Cioè, ignoreremo Non è che lasceremo perdere Comunque, sì, ignoreremo Abbiamo questi dischi MO Che è l'unico oggetto chiave A parte la manovella Che praticamente c'è rimasto nella cassa Quindi, in generale Abbiamo praticamente Dei dischi che, secondo me, almeno Per intuizione Essendo due dischi... Allora, se fosse stato uno Avrei detto che quel disco lo devo usare Magari verso la fine del gioco Un po' come il disco ottico Che ci viene dato in Metal Gear Che poi alla fine noi non utilizzeremo mai Che ci viene sottratto poi da Osselot e tutto il resto Se fosse stato uno solo Avrei detto Va bene Ok, è uno solo Quindi dovremmo usarlo in uno specifico modo Ma avendone trovato un altro A meno che l'eventuale posto Comunque ne richiera due ben precisi Sono un po' restio a pensare Che non sia niente po' di meno Che un'altra vecchia chiave Più tecnologica Ma sicuramente un'altra vecchia chiave Tra l'altro Qua non abbiamo preso Tutto tutto Ma ci manca qualcosa Che io non so Se fate vedere piccole uova Ok Non so cos'è che ci possa mancare in questa zona A meno che non ci manchi qualcosa da fare Allora noi abbiamo iniziato ad esplorare questa zona Che è tutta verde Tranne la zona centrale Che è rossa ancora No Tra l'altro zona centrale che ha due Tre porte Da ancora da esplorare Di cui due sono chiuse L'altra è grigia e non sappiamo ancora Se effettivamente sia esplorabile oppure no Questa è chiusa Ok Mentre questa dovrebbe essere Leve Leve Se solo potessi sbloccare le serrature Delle Leve Allora Scusa Ma scus Allora Qui c'è Quella porta dove c'erano le Allora Allora L'unico No Poi perché ne posso scambiare solo di Alex Packet Per usare la porta elettronica Mettere le iniziali in ordine alfabetico Sono in ordine alfabetico Scusa C'è Alex Packet Clark David Ed Fisher E infine Gail Holland Come Tom Holland Allora Se noi ovviamente spegniamo La luce Su parte di essa C'è una luce rossa Ok Colon Ah Ma vedrai che Intendeva Allora No Però aspetta Questo è Penso sia Comunque L'esofago No Sì Esofago Quindi C E Poi c'è Il fegato Che C E L C E L Sono già in ordine alfabetico Più C E L Porca Puttana C E L L L L L L No ma Ma scusa Dai Porca puttana Allora Abbiamo Ora me lo scrivo Perché veramente Raga Mi sto Sclerando Allora abbiamo l'UNS e polmoni, poi esofago che ha la stessa iniziale, lo stomaco ha la stessa iniziale, poi il liver e il fegato. Poi, vabbè, large intestine e small intestine non c'è, abbiamo solo il colon che ha la stessa iniziale. Quindi, ok, levati dal cazzo, quindi la prima è il colon ed è la C, ok, la seconda nessun cambiamento, fermo, vabbè, proviamo a scambiare, ma in realtà avevo già messo le cose messe bene, scusa eh, perché sulla parte di essa c'è una luce rossa, quindi abbiamo il colon lì, giusto? Quindi abbiamo colon come seconda, la prima che cazzo era? Mi sembra che era l'esofago, no, no, la prima era il colon, ok. Mentre la seconda è l'esofago, quindi colon, esofago, no, non le voglio scambiare, testa di minchia. Poi, la seconda è il fegato, dovrebbe essere il fegato, quindi il liver, la terza liver, quindi C e L, e la quarta è il lungs, quarta lungs, che sono i polmoni. Quindi sono già in ordine alfabetico, ok, che poi era abbastanza idiota, perché quando mi fa la luce rossa sono in ordine alfabetico, ok. Quindi così sono in ordine alfabetico, no? Cioè, almeno, lui mi dice di fare così, tutto in ordine alfabetico. Le parti del... le parti del... cioè, gli organi e anche quelli che... Ho capito! Ma ne abbiamo, porca puttana, ma... Eh? Per usare la porta elettronica... Ragazzi, io non ho pa... non lo so, non... Ora voglio provare a scambiarle, no? Ora le scambiamo... E vediamo che cazzo... cosa mi dice... Sì, scambiale, ok. Adesso non è in ordine alfabetico, perché non è in ordine alfabetico. A meno che il consiglio non fosse errato, ma mi sembra strano. Vabbè, allora, facciamo una cosa. Scambiamo la posizione delle cose, no? Ok. Scambiamo la posizione delle radiografie. Che poi solo due di esse posso cambiare la posizione. Mentre di altre, no. Delle altre due, no. Giornata. Ok, dobbiamo... Dobbiamo continuare ad esplorare, secondo me, perché... Oh, ragazzi, in ordine alfabetico sono in ordine alfabetico. Cioè, di nome, di cognome, di parti interne. Cioè, sono in ordine alfabetico. Quindi... Ok, dobbiamo andare qua... E poi a sinistra. È l'unica porta a cui posso accedere io, no? Ah, no. No, pensavo non potessi prenderle solo perché... Non, non le vedevo. Ok. V-A-T-C. C-T, scusate. Nota del ricercatore. Prove evidenti dimostrano che l'agente mutageno del virus T modifica il genoma dell'organismo ospite. È stato dimostrato che quando l'ospite perde conoscenza, il suo corpo entra in uno stato letargico. In questo periodo di tempo il virus diventa attivo, trasformandoli e costruendo con grande rapidità la composizione fondamentale dell'organismo. Consequenza di tale mutazione, l'ospite diviene una creatura umanoide, che noi chiamiamo con il nome di V-ACT. La sua velocità è anche il limite di sviluppo, muscolare e meditano particolare attenzione. Dopo la trasformazione, la suggettà, l'aggressività, gli Hunter aumentano notevolmente. Quattro di nostri ricercatori hanno già perso la vita in dettaglio di Nutilla, trasformando la stanza in un bagno di sangue. Dopo che questo tragico è più... Abbiamo, nel momento, questa... Crimson Head. No, questi sono gli zombie rossi. Per quanto prezioso, questo esemplare è molto pericoloso e non può rimanere qui. Dobbiamo decidere cosa fare. Nella sua eliminazione fuori discussione. Quando abbiamo finalmente raggiunto la decisione, prenderemo la creatura e ne costruiremo un colpo e ne sotterremo il cimitero dietro. Ma è quello che abbiamo ammazzato? Ok. È quello che abbiamo ucciso? Mm-hmm. A meno che era Joe HN e poi Ada. Ok, vedo la coppia su Select Floor. Mm-hmm. Allora, vedo il momento. Ah mi ha aperto Ok Ok però qui c'è qualcos'altro Va bene Altro c'è? No Ok Perfetto Buon a sapersi Senta potete mettere su per il Non continuo la frase Ok quindi ho aperto La porta vicino alle leve Ma le leve in teoria Le potevamo già utilizzare Cioè secondo Il ragionamento Diciamo del Del tizio Mettendo le radiografie In ordine Alfabetico Avremmo potuto usare Le leve Però adesso possiamo entrare in questa Probabilmente C'è qualcos'altro da fare Raga Due stanze Due stanze Filtro Aspetta Va bene Va bene È stato un piacere Vediamo anche il filtro Nel frattempo Così vediamo anche di cosa si tratta Esplodi Thank you Mmh 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 va bene allora fax continuate a quanto fa, certamente che mi inizia la priorità è una coppia brava termina la lettura e il fax è vero teniamo l'idea nel calciotto per essere vero rispettato sono iniziato a combinazione prima combinazione più della metà di cerata è stato creato e uccisi al virus T non ti ho dato che quasi tutti i suoi pestiti da l'incidente hanno iniziato a cos'è il sito per l'inversione T seconda combinazione la nostra squadra speciale per la sicurezza è stata apprezzamento a niente minchia di conseguenza le nostre ricerche top sick che rischiano di essere rese pubbliche è necessaria un'azione immediata per il periodo del terremoto del terremoto non è che gran parte se poi se c'è un libro all'interno della struttura prevediamo che il numero delle vittime salirà ulteriormente vabbè è come se fosse stiamo parlando del tempo di domani non è che per quanto tragici questi eventi sono prova del successo dei nostri insomma siamo seri ma veramente è necessario fare il possibile per impedire i risultati di ricerca che vengano resi pubblici ok quindi per quanto riguarda il filtro filtri di colore rosso preso tutto no cioè ah vabbè sì questo vabbè però allora andiamo a poggiare l'erba andiamo a poggiare l'erba non si può sentire cioè proprio vabbè ehm sì andiamo a poggiare un paio di cose ma perché mi stanno dando tutti questi proiettili per Magnum io raga c'ho un po' di paura eh c'ho un po' tanta paura prendiamo un disco prendiamo un disco MO e vediamo se ne abbiamo due cioè voglio dire possiamo fare veramente le prove le prove maledette sì ma vendone due ma una presumo mi sblocchi comunque le ehm le porte diciotto raga diciotto diciotto e cinque ce li ho nel revolver ma io non lo so ma in un ipotetico scenario in cui dovremmo affrontare un boss finale probabilmente quei Magnum quei proiettili della Magnum mi serviranno per l'appunto per il boss finale vabbè allora proviamo a utilizzare il disco MO in quella stanza e a vedere cosa succede perché secondo me o mi sblocca la porta che abbiamo qui dietro cioè nella zona che sto lasciando oppure mi sblocca qualche altra cosa ma non saprei cosa effettivamente vabbè vediamo ma le leve in teoria allora la porta elettronica con le leve secondo me c'è qualcosa che non quadra boh ma poi perché mi da una una su tre una una su tre cosa ok non mi aspettavo una cosa così raga sinceramente non mi aspettavo una cosa del genere boh vabbè quindi in teoria ce ne servono tre noi ne abbiamo due però quindi mi fa ridere il fatto che comunque tutto quello che abbiamo trovato alla fine cioè io pensavo fosse una sorta di vecchia chiave no qualcosa che ti sblocca comunque una porta elettronica ma in definitiva non ti fa niente se non ti fa niente di diverso di quello che ti faceva la vecchia chiave in definitiva no allora vediamo e soprattutto il filtro rosso ma non è che sì ma dove dovrei usarlo questo fantomatico filtro rosso quindi allora il filtro rosso secondo me c'entra con la stanza con le lastre per forza di cose cioè non può essere diversamente non può veramente succedere diversamente però in generale non è necessario se io faccio x e allora con non posso usarlo non posso usarlo non posso usarlo mi non è usc ma beh non è usc ma fammi capire una cosa cioè devo usare il disco andare ad attivare la leva usare un altro disco non posso usare vabbè no non me lo fa usare su scusa e quale porta mi avresti attivato in generale no quella rimane chiusa da scudo da scudo spada armatura elmo se ho passato elettricità va bene ok allora quindi l'unica cosa che mi viene in mente da fare è utilizzare il filtro da qualche parte nella stanza qui a fianco no allora ho ricaricato la partita perché sono andato dietro indietro praticamente fino alla non all'altare ma dov'era forse al giardino perché abbiamo questa zona che mi dice ancora che manca qualcosa da fare o da trovare però non saprei dirvi non non lo so allora vabbè io direi subito di allora qua avevamo chiarizzato tutto quindi sti gatti allora fai vedere se qua magari ho dimenticato qualcosa no ma avevo già preso si avevo già preso tutto quindi niente allora giù mi sta venendo il dubbio no riguardo alle parti che vengono comunque illuminate di rosso perché a meno che la password non sia collegata a quelle parti del corpo cioè nel senso al colon esofago e tutto il resto delle cose no quindi qui dentro dovrebbe esserci poi il filtro per cosa lo utilizziamo cioè per cosa ci serve allora se noi tipo premiamo questo diventa tutto cioè diventa tutto rosso poi qua ci viene comunque mostrato prima il colon l'esofago il fegato e i polmoni che essenzialmente hanno delle iniziali quindi C E L L SEL praticamente dovrebbe essere no metto gli iniziali in ordine alfabetico ok quindi c'è una password allora tra l'altro ci rimane da usare il disco MO perché comunque ho ricaricato la partita che stavo comunque girando a vuoto com'è che ah no devo andare devo andare qua e poi in quella doppia porta che stava dall'altra parte allora qui abbiamo preso ah si ci mancava da prendere vabbè che cos'era l'erba verde o proiettili forse non mi ricordo si proiettili vabbè li lasciamo per ora qua non mi interessa cioè non sono urgenti da prendere allora entriamo qui dentro quindi facciamo John e Ada come abbiamo fatto prima e poi cos'è che allora qua ci sono proiettili per la Magnum ok ma li lasciamo per ora poi li verremo a prendere quando abbiamo appena allora qua c'era ah questa l'ho già letta ok quindi non mi interessa mentre qui dobbiamo mettere la password quindi era John e poi Ada perfetto ora per questa era Ada se non sbaglio giusto ok e qua ci siamo già qua invece ci chiedeva un'altra password proviamo a mettere cell ma va e io stavo girando stavo girando come un deficiente ah ok ci ha aperto quella porta di sopra oh interessante qua cosa c'è? questa la possiamo prendere tanto non occupa spazio poi vediamo se c'è no mi sa che c'era solo qua non c'erano porte non c'era no c'erano solo le munizioni quindi prendiamo le munizioni e basta dovrebbe comunque essere c'è qualcos'altro? scusa cosa c'è da prendere? vabbè il kit medico può anche rimanere là per ora poi lo verremo a prenderci dobbiamo ricordare che l'importante è che l'importante è che ci sia solo quello da prendere o da fare quindi che non ci sia nient'altro allora quindi andiamo ad utilizzare il disco MO M2O se non siamo due M2O allora quindi fate questa minchiata ah queste vabbè le possiamo prendere perché si collezza troppi proiettili per magno ah vabbè addio stavamo già letto ok quindi ci sono tre terminali ci sono tre terminali sì si vabbè ok quindi vabbè i cosi di di salvataggio che prenderemo dopo adesso saliamo su che tra l'altro dobbiamo salire per poggiare alcune cose e proviamo ad andare nella cella proietti proiettili per magnum stanno diventando un po' tanti ragazzi se devo essere sincero quindi potrei iniziare a preoccuparmi seriamente presumo di essere verso la fine del gioco a occhi e croce può essere no aspetta prima di andare là però poggiamo un po' di roba che magari c'è da raccogliere qualche oggetto quindi meglio prevenire che curare poi il disco me lo porta presso oppure lo lascio nella cassa vediamo dipende da che cosa c'è in quella in quella stanza i filtri per ora li lasciamo qua questi invece vediamo se ne abbiamo porca puttana ne abbiamo 18 più 5 23 non sono pochi non sono veramente pochi i proiettili della magnum cioè per un eventuale boss finale non dovrebbe essere un problema no per non parlare delle molteplici cure che ci hanno dato cioè proprio buttarle a calcio in culo così le cure va bene più che altro mi viene sono curioso di sapere se avessimo se fossimo riusciti a salvare quei due che potevamo salvare credo ah qua c'è il terzo disco MO che ovviamente lasciamo qua lo lasciamo appoggiato qua sappiamo che comunque c'è qua proiettili per il fucile interessante protocollo di sicurezza livello 1 eliporto per uso esclusivo di dirigente questa restrizione non si applica in caso di emergenza passaggio per l'eliporto accesso è proibito se non si è accompagnati da un ricercatore da responsabile della sicurezza verrà aperto il fuoco su chiunque accederà l'eliporto senza autorizzazione minchia mei coglioni ascensore l'ascensione si sblocca durante le emergenze stanza audiovisiva per uso di scrivere per il meno ogni altro accesso deve essere utilizzato da Kate Harving Harving vabbè il suo video della stanza sotterraneo livello 3 prigione l'utilizzo della prigione viene regolato dalla divisione sanitaria almeno un ricercatore e smith s rosso o albert wesker deve essere presente se viene autorizzato l'uso del virus porta serratura tripla per accedere la stanza è necessaria di disattivare la serratura utilizzando tutti i codici di entrata la serratura viene disattivata accendendo i terminali di output situati in ognuna delle sezioni dei capo ricercatori sala del generatore in questa stanza un composto azotato viene utilizzata come principale fonte di energia elettrica l'accesso è consentito esclusivamente ai supervisori generali questa restrizione potrebbe non applicarsi ai ricercatori dotati di speciale autorizzazione terminali di output a codice di accesso l'accesso è utilizzo devi terminare diventato il capo ricercatori livello 4 guarda i progressi del tyrant in seguito l'associazione del video stick questo documento risulta illegibile che tra l'altro presumo sia lì ad aspettare noi vabbè aspetta aspetta prima di prenderlo prima di prendere qualsiasi tipo di cosa con un proiettore cerberus il cane ok neptune lo squalo gli hunter il tyrant che ancora non abbiamo visto che ancora non abbiamo visto tra l'altro dipartimento guarda chi c'è guarda chi c'è aspetta questo questo mi sa di codice allora 8341 8341 70 623 non si sa mai no beh se potessi scegliere di mettere ma ci sono due porte no allora c'è un disco MO e uno di questi spray quindi voglio dire di prendere lo spray e il disco a vedere se c'è qualcos'altro da fare minchiera nascosto dimissione password proviamo 8 3 4 1 errore altri codici non ne ho trovato scusa lo 0 non c'è 7 6 2 3 non c'è questo ma se io vuoi vedere che il filtro il filtro mi cambia qualcosa all'interno del codice mi fa vedere quali numeri devo usare per mettere il codice vedrai 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 che se è così se è così raga secondo me è così secondo me è così cioè il filtro col proiettore diventa di colore rosso il rosso prima ci ha dato un codice quindi presumo che funzioni così allora togliamo questo e togliamo anche lo spray ok quindi esaminiamolo perché ovviamente lui deve sapere contiene filtri di colore rosso non sono oggetti da filtrare va bene come si chiama adesso filtro non ti cambia il nome proviamo a vedere se la mia teoria è corretta oppure no belli gli enigmi comunque il residentivo il cazzo è una cosa che a me mancava tantissimo mancava tantissimo nei nuovi giochi che non c'è da nessuna parte una cosa del genere cioè proprio spostati perché non non te lo diamo allora vediamo ok qua c'è ancora da fare qualcosa tra l'altro ma non ho capito vabbè proviamo a usare il filtro lo sapevo lo sapevo lo sapevo 8 4 6 2 no no non la voglio visualizzare lo sapevo ecco perché mi indicava un pezzo di fango cos'è questo? chiave del laboratorio si si ma mi fa fare la stessa cosa se mi fa arrivare la stessa cosa ok quindi ho preso tutto qua no c'è ancora della ci sono ancora delle cose da fare tipo ok mancava la scusa scusa e quindi mi apri quelle due porte ok ok quindi in definitiva abbiamo fatto tutto questo per la chiave che ci dà l'accesso alla a quelle due porte lì ottimo allora il disco MO però me li porto tutti e due ho solo uno solo uno per ora poi vediamo se ovviamente ce ne servono degli altri speriamo cioè speriamo sicuramente sarà così in quelle due stanze troveremo comunque quella specie di affarino che ci dà la possibilità di come si chiama di interagire con quella cosa di è bloccato dalla ruggine ma pensavo che il laboratorio fosse una porzione piccola del gioco ma cosa mi stai dicendo mi dai perfetto buono allora diciamo così spray che ovviamente a non finire ok cartucce fucile ma buono raga vabbè cioè qua stiamo veramente valvolando ma a livelli osceni c'è 24 più 5 29 ne abbiamo 29 sostanze chimiche le tigre sono dopo non si capisce cosa contengono vabbè link ribbon ok abbiamo preso tutto abbiamo preso tutto bene ottimo 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 davvero poggiamo pure questa cosa qua non voglio salvare voglio continuare qua abbiamo preso tutto quanto non voglio non voglio non voglio non voglio cosa cazzo è questa cosa a quello gli ho fatto parecchio male tre colpi di fucile ragazzi attenzione il carburante può esplodere se scosso Allora io direi torniamo indietro usiamo la chiave la chiave nell'altra porta